FWG24.it, le notizie. Caso Eluana, Tondo invita la casa di cura a compiere una scelta autonoma. La regione si asterrà, ha detto, così come doveva stenersi il governo. Il Vescovo di Trieste Ravignani ribadisce che i Vescovi del Friuli Venezia Giulia si sono già chiaramente espressi sul caso di Eluana. Sulla lettera firma di dieci sacerdoti, Ravignani prende le distanze, è solo un'opinione personale. Trieste, dopo 90 anni la statua di Massimiliano ritorna in centro città, l'inaugurazione oggi pomeriggio in piazza Venezia. Calcio, Coppa UEFA, sorteggio per i sedicesimi di finale, l'Udinese affronterà la squadra polacca dell'Eck Portland. I 90 anni della Triestina calcio, ieri sera grande festa al Pala Trieste.